Grazie. Sicuramente lo è per tutta l'energia che ha e la professoressa Zanetti tra l'altro continua a ringraziare le persone in streaming che sono ancora tutte lì, che hanno atteso questo momento, dell'Università di Pavia e si interessa in maniera specifica della plus dotazione ma non le rubo tempo. Sì, beh innanzitutto ringrazio Magda, Federico, Lido per avermi invitato, adesso mi rendo conto che è tardi e dopo queste, no poi anche dopo queste devo dire anche interventi che hanno proprio messo bene in chiaro tutta una serie di aspetti che sono legati proprio alla dimensione della clinica ma anche alla dimensione educativa come deve essere letta e reinterpretata. Spero di essere in modo un po' più prosaico, meno poetico, di fare un salto, un punto nella realtà. Mi auguro appunto di non essere un capitombolo nella realtà, perché il tema che mi è stato dato è la formazione dei docenti per i bambini ad alto potenziale. Per cui ho cercato appunto di inquadrare un po' questo problema e cercherò di dare delle indicazioni, mi auguro, a degli insegnanti. Stamattina, aprendo la mail, ho trovato questo mail, una richiesta di aiuto di una mamma. Ve ne prendo solo un pezzo, dopodiché dico che cosa si può fare a scuola. Dopo la prima settimana mi ha detto che non volevo più andare a scuola, bambina di sei anni, perché fanno solo disegnare e lei vuole scrivere e leggere e mi ha chiesto di insegnare le lettere in corsivo. A scuola ha iniziato adesso a fare la A, la I, la O, il stampatello. Lei le sa già scrivere parole in stampatello e sa fare oralmente la silabazione di tutte le parole già da quando aveva tre anni e mezzo. Ma non so come ci riuscita, per cui la mamma è sorpresa di questa caratteristica della bambina, perché io non le ho insegnato le lettere. Poi un giorno mi comincia a dire come si scrivono le parole, tutte. La scorsa settimana mi ha chiesto di insegnargli le addizioni che le ho spiegato e in due secondi ha finito la pagina. Le dicevo di usare i pennarelli per contare, ma lei doveva fare tutto a mente. Lei salta molti passaggi, va subito al dunque. Come per esempio, ho imparato ad andare in bicicletta e quant'altro, qui racconto un po'. E poi dice, ma vado verso la fine, quando ho detto alla maestra che mia figlia parlava correttamente già a due anni, che è timida e che si annoia, all'inizio ha capito come si deve stimolare, che la deve stimolare di più. Ma anche ho visto una specie di muro nello sguardo e mi ha fatto capire che in ogni cosa loro devono seguire le linee guida di tutta la classe e quindi ogni bambino più impegnativo per loro un problema. che sia precoce o che abbia problemi di apprendimento. Questo è un caso. Questo è l'ultimo di stamattina, ma ve ne potrei raccontare tanti. Perché ve l'ho messo? Proprio per dire, cosa facciamo per questi bambini? Questi sono bambini che a scuola spesso non vengono visti. Mi è piaciuto la lettura che è stata fatta dei casi clinici, dove il bambino viene visto a 360 gradi, a tutto tondo. Qui noi, la scuola, spesso lo sguardo dell'insegnante è uno sguardo miope, è uno sguardo che ha un negletto, io dico, vede solo l'aspetto cognitivo e non la dimensione a 360 gradi. Per cui, questo proprio mi è arrivato stamattina, è una delle tante. Allora cerchiamo di inquadrare un po' il problema, prima di dire come possiamo formare gli insegnanti. Sicuramente il tema della presodotazione, che io vorrei entrasse all'interno dei BES. I BES, gli special needs, devono essere ricondotti anche a una dimensione della presodotazione, che non significa fare una diagnosi, ma significa fare una valutazione, e anche stamattina ho sentito parlare molto della dimensione del potenziale, dello spazio prossimale. Questi bambini hanno uno spazio prossimale che spesso noi castriamo, spesso noi riduciamo. E se riduciamo questo spazio, riduciamo delle possibilità per loro, anche di avere una serenità negli apprendimenti. Mi è sembrato che fosse centrale per tutti stamattina mettere in evidenza come la dimensione dell'apprendimento sia una dimensione, soprattutto voi nella penultima intervento avete detto che è un apprendimento che avviene in un contesto di attaccamento, vale a dire in un contesto dove tu devi riproporre dei modelli organizzativi. E questi modelli organizzativi che attivano nel bambino per il suo sviluppo la curiositas epistemica, che è funzionale allo sviluppo, spesso nella scuola vengono invece ridotti o addirittura modificati. Pertanto è importante riconoscere questo, perché? Perché noi abbiamo dal 5 all'8% di popolazione di bambini normali che sono portatori di questo potenziale. 5-8%, per cui vuol dire che almeno un bambino in ogni classe c'è. Quanto siete stati formati a vederli? Che tipo di percorso vi è stato proposto? Zero, nessuno. Anche perché spesso c'è un pregiudizio. Il pregiudizio è quello che, ma sì, se uno è intelligente qual è il problema? Ce la fa, io devo guardare, il problema dell'insegnante deve essere quello di guardare solo quelli che hanno difficoltà? No, anche questi, se non sono guardati, possono avere degli esiti clinici importanti. Si è parlata di depressione, ci sono molti studi che mettono in relazione, soprattutto nel contesto americano e in Italia, non si lavora ancora su questi aspetti, che fanno vedere come una depressione maggiore diventi una depressione in età adulta che ha avuto i suoi prodomi all'interno, ad esempio, di una presotazione non riconosciuta, o casi di suicidi, ce ne sono tantissimi, di adolescenti, soprattutto nel momento stesso in cui il loro potenziale cognitivo, che è anche sotto il profilo dello sviluppo, nel massimo momento di esplosione, se non adeguatamente supportato, loro vanno in underachievement, per cui vanno verso dei circuiti depressivi importanti. Ancora, che cos'è il concetto di potenziale? Allora, sicuramente ci sono due punti di vista opposti. Un punto di vista che dice, vabbè, il potenziale, prospettiva entitaria, si nasce, è così. La prospettiva all'interno della quale oggi noi ci muoviamo, invece, è una prospettiva che tiene conto sia della dimensione genetica, voi avete avuto anche il professor Burgio, che vi ha parlato sicuramente degli aspetti epigenetici, io l'ho incontrato e ci siamo incontrati a un convegno 15 giorni fa, dove abbiamo affrontato, senza conoscere tutte e due questa dimensione, per cui questa slide l'avevo già preparata, e devo dire, ho sentito da parte sua una conferma in quello che io sto cercando di portare avanti, per cui la genetica propone, l'epigenetica dispone, ma l'epigenetica è il contesto? E anche stamattina ho visto che i contesti, se non sono adeguatamente attrezzati a leggere le dimensioni, gli aspetti individuali, possono creare situazioni appunto di fragilità. Chi sono i bambini più sdotati? Sicuramente sono bambini precoci che rispetto agli altri appunto manifestano prima un raggiungimento di alcune tappe di sviluppo, ma sono bambini come gli altri, dobbiamo tenerlo in considerazione, questo è un aspetto centrale, sono bambini, così come dice la National Association for Gifted Children, sono bambini che hanno o dimostrano di avere, per cui l'epigenetica sul dimostrano di avere una grossa responsabilità, perché possiamo perdere, possiamo non vedere, possiamo mettere in atto uno sguardo parziale, per cui mostrano o dimostrano di possedere dei livelli di eccezionalità non in tutto, non in tutto, e anche su questo talvolta una comorbidità con DSA, con altri disturbi, ci può stare, ci può stare e vedremo perché. Questa è la nostra curva normale, voi siete solitamente abituati a vedere il lato sinistro della curva, guardiamo il lato destro, il lato destro vale a dire tutte quelle persone che si collocano tra il 5 e il 2%, vale a dire nella distribuzione normale della frequenza sono a 130 punti di cui, il cui ricordo a media 100, deviazione standard 15, solitamente siamo stati abituati, la legge 170, che è una legge che sicuramente in Italia ha innalzato il livello punto di attenzione verso i soggetti fragili, però ci porta a guardare i bambini dall'85 in giù. Per cui, e su questo anche a livello, devo dire, ministeriale, si è molto investito nel cercare di fare una formazione specifica su questi aspetti, su questo è terra di nessuno ancora. Il lato potenziale, poi, ha una sua specificità, non è tutto uguale. Noi individuiamo, questi sono i nostri criteri di valutazione che abbiamo mutuato dalla RUF, individuiamo 5 livelli di potenziale, perché a seconda del livello di potenziale cognitivo vedremo che avremo anche degli esiti di sviluppo diversi. avere un potenziale moderato, piuttosto che altissimo potenziale, crea degli scompensi che devono essere gestiti. Questo ha a che fare con il funzionamento cerebrale. Sicuramente la dimensione ereditaria è una dimensione centrale, per cui talvolta è necessario anche individuare le linee di sviluppo all'interno della famiglia, ma non è necessario solo pensare alla dimensione genetica. C'è anche una dimensione di pratica, di duro lavoro, di fatica, le cosiddette mille ore di allenamento. Significa però che questi bambini, se non sono stati messi nella condizione di avere un atteggiamento metacognitivo, ad esempio, perdono il loro potenziale. E l'attenzione della scuola deve andare proprio in questa direzione. Bambini che fino vedremo la scuola primaria non hanno difficoltà o rendimenti fallimentari a livello scolastico. Cadono inesorabilmente nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria in secondo grado. Perché? Perché la scuola non è più capace in questo momento di supportare queste loro capacità e soprattutto non ha insegnato prima a fare il percorso di accompagnamento al ragionamento, che è la metacognizione, l'utilizzo di atteggiamenti strategici. Per cui è un costrutto multidimensionale, quando io parlo di plus dotazione non parlo solo di qui come intelligenza, ma parlo di qui e di quei, anche tutta la dimensione emotiva entra dentro, tutta la dimensione personologica entra dentro. Il funzionamento cerebrale ad alto potenziale spesso è caratterizzato, noi quando facciamo valutazioni chiediamo sempre una storia e l'anamnesi è centrale per poter dar avvio al processo di valutazione. Spesso sono bambini che camminano molto presto, parlano molto presto, arrivano appunto a produrre anche delle frasi molto elaborate prima dei 3-4 anni, hanno una lettura spesso spontanea senza essere stati stimolati a livello parentale. Prima sentivo stamattina, diceva appunto Federico, che oggi c'è molta attenzione da parte delle famiglie di anticipare i bambini, noi non siamo per un anticipo, vedremo cosa si può fare con questi bambini, tuttavia non posso pensare che questo bambino rimanga a scuola, come sta succedendo in questi giorni a un altro bambino che abbiamo seguito nella scuola dell'infanzia con un percorso di accompagnamento verso e anche di introduzione di elementi di classe prima alla scuola dell'infanzia, dove lui poteva nell'area di potenziale fare delle incursioni strutturate, accompagnate per poter vedere, proprio nutrita, proprio si parla di nurturance, il suo potenziale cognitivo, si è ritrovato purtroppo in prima elementare con l'insegnante che ha detto, vabbè adesso noi stiamo facendo uno più uno e questo bambino, la mamma mi ha detto, lui sta a fare le equivalenze, cosa facciamo? E' ovvio che questo bambino avrà il mal di pancia, e' ovvio che questo bambino metterà in atto la fobia della scuola, e' ovvio che questo bambino si isolerà. Questi sono aspetti che noi non possiamo non considerare. Però vado veloce, perché voglio proprio farvi vedere cosa stiamo facendo noi. Le caratteristiche neurologiche di questi bambini hanno un accentuato sviluppo cerebrale dell'emisfero destro, la spazialità è centrale per questi bambini, spesso la spazialità e tutta la dimensione diciamo più anche fisica, corporea, la scuola non la valuta, la dimensione artistica, la scuola non la valuta. Hanno un'associazione tra le abilità spaziali e tutta l'utilizzo, oggi noi parliamo di equipotenzialità degli emisferi, gli emisferi non hanno una predisposizione per alcune funzioni, ma sappiamo bene che ci sono aree che si vicariano alcuni comportamenti. In questo caso c'è un funzionamento diciamo accentuato, naturalmente spesso sono mancini, hanno un'organizzazione cerebrale per lo più bilaterale e simmetrica con maggiori connessioni. Noi in Italia non abbiamo ancora fatto studi, ad esempio con l'uso della risonanza magnetica. In contesto americano la risonanza magnetica dà evidenze sulla accentuazione delle connessioni. In alcuni casi possono anche avere dei deficit linguistici, ma dovuti a problemi, e mi piace il caso che ieri avete presentato, non tanto a problemi dati da una fragilità o da un danno, ma spesso da un nascondimento. Possono avere patologie autoimmuni come conseguenza appunto delle alterazioni prodotte dal testosterone. Il testosterone, molto probabilmente, di questi bambini è molto più elevato a livello fetale. Questo è un altro studio che è stato condotto soprattutto in contesto americano. Tuttavia queste caratteristiche, diciamo neurologiche, non sono sufficienti per dire che un soggetto ad alto potenziale. Questa è la dimensione, il portato genetico, ma c'è il portato epigenetico che può sicuramente introdurre degli elementi per arrivare davvero a definire questo costrutto. Per cui l'inquadramento che noi dobbiamo dare nel contesto americano si usa l'espressione gift, cioè dono, per cui dal dono al talento. Essere soggetti ad alto potenziale non necessariamente significa essere dei talentuosi. Ci possono stare entrambe le cose, ma non è la stessa cosa. Per cui lo sviluppo del talento si ha come una progressiva trasformazione dal dono in talento, spesso educato, accompagnato. L'individuo ottiene risultati superiori in un campo specifico, questo è l'individuo ad alto potenziale. Il talentuoso non necessariamente ha una performance adeguata. Così come la motivazione. Questi bambini inizialmente sono fortemente interessati, motivati alle loro passioni. Passioni che spesso vengono però frustrate, castrate nei contesti scolastici scolastici in particolare. I criteri che noi utilizziamo, secondo il modello di Stember, per individuare questi bambini sono sicuramente potenzialità superiori rispetto ai pari di età cronologica. Vedremo come loro poi hanno bisogno di pari di età mentale per poter essere alimentati in questo loro percorso. Capacità di competenze non comuni, area di eccellenza che spesso porta a ottenere dei risultati subitanei, risultati dei quali loro non sono capaci neanche di spiegarlo. E allora, nel caso degli insegnanti, cosa fare? Non dare i compiti a casa, sono d'accordissimo su quello che è stato detto prima, soprattutto a questi bambini, perché è una ripetizione di una competenza che loro hanno già acquisito. E allora a questi bambini, ma a tutti i bambini, dovremmo dare la possibilità di dar conto di come sono arrivate a quel ragionamento. Le tabelline, perché gliele devo far imparare a memoria? Le tabelline, lavoriamo dietro su come si è arrivato a scoprire le tabelline? Il raggruppamento, per la dire, lavoriamo dietro sulle inferenze che possono fare per poter giustificare i loro risultati. La dimensione emotiva è una dimensione centrale per questi bambini. Dimensione emotiva che però spesso non va di pari passo con il livello cognitivo. Per cui questi bambini, Terassier parlava di disincronia dello sviluppo, ma questo vuol dire mettere l'accento su una dimensione di mancanza. Dobrowski parla di assincronia dello sviluppo e anche io preferisco utilizzare questo termine perché la sincronia dello sviluppo ti lascia la possibilità di introdurre il costrutto vigoschiano dello spazio di sviluppo prossimale. Per cui lo sviluppo assincrono che caratterizza questi bambini deve essere aggiustato. Noi parliamo di adjustment socio emotivo di questi bambini, per cui inserirli all'interno di contesti dove loro possano imparare la regolazione delle emozioni. Perché ragionano talvolta come bambini di 10 anni, ma hanno 5 anni e la loro risposta emotiva è di bambino di 5 anni. Per cui dobbiamo cercare appunto di non adultizzarli, ma di metterli nella condizione di imparare le strategie. All'interno del contesto scolastico, andiamo più a scuola, spesso questi bambini si annoiano. Perché? Perché vedono le attività che vengono proposte come rutinarie e ripetitive. Le sa già fare. Facile perdita di entusiasmo e di motivazione. Disturbo delle lezioni. Spesso impiegano la metà del tempo per fare le attività, pertanto nell'altra attività, soprattutto i maschi, si alzano in piedi, si muovono e allora vengono letti come bambini iperattivi. E la diagnosi che noi poi facciamo disconferma. Oppure in altri casi vengono letti come bambini autistici. Non sto qui a entrare dentro nello specifico, ma noi cattive diagnosi di questo genere ne abbiamo dovute gestire parecchie bambini che invece si auto isolano, trovano degli spazi mentali per poter contenere il loro bisogno di conoscenza. Mancato svolgimento dei compiti a casa. Per loro è una ripetizione. Facciamogli fare altre cose. Attenzione esclusiva verso un'area di studio, trascurando nelle altre. Spesso sono molto ossessivi nella loro area di interesse. Sono molto autocritici. C'è una componente, quella del perfezionismo. Ci sono molti studi che mettono in evidenza come il perfezionismo di questi bambini talvolta diventa disfunzionale. Si parla di perfezionismo distruttivo, per cui davanti al compito che non viene come lui pensava o come l'insegnante o il genitore si aspettava, cestina il lavoro e non ci lavora più. Basta, non fa più questa cosa. Stamattina è stato presentato da Ciabrone il modo di colorare. Questi bambini non vogliono colorare. Perché dobbiamo farli colorare dentro? Farli colorare dentro significa davvero non dargli la possibilità di gestire il loro potenziale. L'uso dell'acquerello, l'uso appunto anche di un collage o altre modalità possono essere utilizzate e sono più funzionali al loro modo di essere. Scarsa tolleranza verso il fallimento e le ingiustizie. Loro sono molto attenti, molto critici nei confronti degli insegnanti. Tendenza a distrarsi. Il daydreaming. Sognano ad occhi aperti, soprattutto le femmine. Tant'è vero che le femmine sono meno valutate, ad esempio nel nostro caso. Perché? Ma non perché non siano ad alto potenziale, ma perché trovano delle strategie alternative. Per cui si adeguano nel contesto scolastico, adagiandosi, ahimè. Sovrecitabilità, per cui talvolta hanno delle reazioni anche emotive esagerate, che creano disturbo, soprattutto sono ipercritici nei confronti degli insegnanti, quando soprattutto si rendono conto che gli insegnanti talvolta difettano di conoscenza. Per cui hanno anche difficoltà a relazionarsi con i loro coetanei cognitivi. Per cui i coetanei che hanno lo stesso della loro classe talvolta risultano problematici, perché non riescono a stare al loro passo. Si isolano o si auto-isolano, hanno un senso di vuoto e di rabbia, per cui la rabbia, la depressione, così come è stata letta, potrebbe essere in alcuni casi un nascondimento di un potenziale non riconosciuto. Problematiche emotivo-comportamentali, underachievement e dropout. Hanno un alto potenziale, ma spesso sono a rischio di dropout. Perché? Perché questi bambini, nel contesto scolastico, cosa sanno? Cosa vogliono fare? Attendono di imparare. E questo per un insegnante diventa un problema. Perché se non puoi mettere questi bambini, come io ho messo poi in un'altra slide, in stand-by. Questi bambini devono essere messi all'interno di percorsi, vedremo, che gli permettono in quella classe, non in una classe speciale, di fare delle attività che permettono loro di poter raggiungere una soddisfazione e un soddisfacimento di tipo cognitivo. Spesso riescono facilmente, si illudono di riuscire senza sforti. Ecco perché noi dobbiamo mettere anche nell'altra dimensione di sfidarli, diamogli un compito che li metta nella condizione di mettersi alla prova. Noia dell'attesa. Nella scuola primaria, e sono andata un po' veloce, la scuola primaria solitamente noi non abbiamo situazioni di underachievement o di scarsa risultati. Tuttavia, spesso abbiamo anche in questo caso, io lo metto sempre in modo molto critico nei confronti agli insegnanti, abbiamo delle performance tutte molto elevate, 10 in tutte le materie e 5 in condotta, in comportamento. Questi sono casi che si verificano frequentissimamente. Significa appunto che lo sguardo dell'insegnante è uno sguardo appunto che non mette insieme tutti e due aspetti dell'apprendimento. Che bisogni hanno questi bambini? Hanno secondo me dei bisogni speciali, per cui bambini best, questi, anche questi sono, perché hanno bisogno sotto il profilo cognitivo, per cui devono essere nutriti, sotto il profilo emotivo e sotto il profilo sociale, perché altrimenti rischiano di essere dei disadattati. Certamente una continua carenza di stimoli dovuta a una plusdotazione non riconosciuta può determinare l'insorgere di problemi di adattamento. Per cui è necessario individuare, è necessario individuare attraverso che cosa? Attraverso degli strumenti. Vado un po' veloce perché visto che sta perdendo, sta passando il tempo. Noi abbiamo messo a punto un progetto, un protocollo di identificazione di questi bambini. Sono le GIFT Rated Scale, è un protocollo per insegnanti, qualche insegnante delle scuole di Roma l'ha già applicato, non utilizzato, applicato e è un protocollo che permette agli insegnanti di avere uno sguardo sui bambini che loro ritengono in quel momento brillanti. Andiamo a vedere se questo sguardo è uno sguardo che viene confermato da un indice che è l'indice del quoziente intellettivo di ragionamento generale. Se questo viene confermato possiamo poi mettere in atto, a partire dai primi anni della scuola, dei percorsi di potenziamento, o dei percorsi inclusivi di accelerazione. Queste sono già state validate nel contesto italiano, dovrebbe essere prossima la pubblicazione. Le aree che vengono indagate sono aree di abilità intellettiva, abilità scolastica, per cui quanto a scuola va bene o non va bene in una materia, la dimensione creativa viene valutata, la dimensione del talento artistico, che nel nostro contesto ahimè non lo valuta, la leadership, la capacità di leadership, questa viene valutata a partire dai sei anni. Siccome c'è una scala dei kindergarten che noi naturalmente metteremo a punto nei prossimi anni, non possiamo nella scala dell'infanzia introdurre un elemento di questo genere perché sarebbe anticipare delle comportamenti e la dimensione motivazionale. Per cui andiamo a vedere se tutte queste aree sono aree che davvero possono essere confermate da un indice di alto potenziale. La validazione italiana, non entro nello specifico, ha dato dei criteri di affidabilità e di validità molto consistenti. È una validazione che ci ha permesso così di poter dire è uno strumento che potrebbe essere da domani utilizzato nelle nostre scuole. Cosa fare per questi bambini a scuola? Noi abbiamo messo a punto ormai dal 2012 una formazione per insegnanti all'interno di un percorso che si chiama Accordo di Rete. La scuola educa il talento e in alcuni casi anche qui a Roma è già stato fatto, dove proponiamo una formazione per le insegnanti che non solo consente loro di conoscere questa tematica e di impratichirsi e impadronirsi di metodologie didattiche quali accelerazione, arricchimento, approfondimento, differenziazione e personalizzazione, ma anche poter produrre dei materiali e essere supervisionati dal mio laboratorio, dai miei collaboratori nell'applicazione di questi materiali. Questo è il lavoro che già abbiamo fatto. Vado velocissima perché siamo sotto i rischi di una non individuazione. Sottorendimento, drop out, perdita dell'autostima, isolamento sociale o diagnosi errate. Qui i colleghi miei, professionisti, spesso non sono capaci di fare una diagnosi di alto potenziale. Non è solo un qui. La batteria di alto potenziale è una batteria molto complessa che deve mettere insieme non solo una qui, vale a dire una valutazione di ragionamento accademico, per cui non è culture free rispetto. Noi integriamo con delle prove di ragionamento generale tipo le Raven, con delle prove di funzionamento tipo le CBCL, l'SDQ, sia per genitori che per insegnanti, le TRF, sia utilizziamo anche delle scale di stress parentale perché questi genitori spesso sono fortemente, e mi sono ritrovata molto con i vostri interventi, sono fortemente a rischio di proprio stress che può andare a incidere sulle condotte di questi ragazzini. Spesso questi bambini vengono diagnosticati da colleghi come bambini con disturbo positivo, con disturbo ossossivo compulsivo, con disturbo per lo più di iperattività o con disturbi dell'umore, per cui vedete anche dei quadri diagnostici di una certa severità e che richiedono degli interventi specifici. Noi abbiamo individuato, intercettato alcune valutazioni misdiagnosi di questo genere e abbiamo tolto dei bambini che sono stati per tre anni inseriti in percorsi di bambini con alto funzionamento piuttosto che bambini oppositivi e quant'altro. Questo significa davvero destabilizzare questi bambini. La didattica per bambini ad alto potenziale allora significa soddisfare le esigenze accademiche, cioè il fatto che loro vogliano avere quel qui di in più, ma dall'altro lato tener conto anche dei bisogni emotivi e sociali e allora una delle metodologie che noi utilizziamo è la possibilità di utilizzare i piccoli gruppi, il cooperative learning, avere delle classi che siano aperte. Abbiamo riorganizzato, e adesso non ho il tempo ma poi le slide le posso lasciare, abbiamo riutilizzato anche sulla scorta proprio della normativa scolastica, dei percorsi flessibili che ci permettono e verranno presentati all'interno di un convegno che faremo a dicembre a Pavia, che permettono di ripensare l'orario scolastico in funzione anche di questi bambini. Per cui questo ci permette adesso anche con il personale potenziato, tutte le scuole avranno dei docenti che vanno a integrare l'offerta formativa e nelle nostre scuole, le scuole in rete, vengono utilizzati per fare una didattica inclusiva di questo genere, non per sopperire alle supplenze e quant'altro. Per cui vuol dire però avere anche la possibilità di ripensare il tempo scuola. Questi sono alcuni degli aspetti. Volevo, e non abbiamo tempo perché mi rendo conto che non posso andare oltre le due. La nostra è una didattica inclusiva, una didattica che parte dalla personalizzazione. Noi diciamo che facciamo un tailoring, cioè tagliamo addosso a quel bambino il vestito e questo ci permette poi di fare una didattica che consente a questi bambini di mobilizzare le loro competenze, le loro energie e le loro potenzialità e di condividerle con gli altri. Ci sono una serie di politiche di inclusione che ho messo appunto riferimento europeo, normative e raccomandazioni che l'Europa ahimè dal 94 ci impone, dovrebbe imporci di mettere in atto e noi siamo tra gli stati che disattendono, hanno finora disatteso. Ma vado avanti, c'è addirittura il comitato di sviluppo economico che raccomanda, per cui un comitato economico non del ministero dell'istruzione, che raccomanda di promuovere l'istruzione e l'apprendimento permanente tenendo presente che in ciascuno di noi il potenziale intellettuale non è statico e si sviluppa in maniera diversa ai secondi dei periodi della vita. Ma nella slide precedente si dice a un certo punto, si parla proprio della necessità di mettere in atto, questo è un altro documento sui bisogni educativi speciali, agenzia europea, parla, dice, il punto di partenza dell'integrazione scolastica è la consapevolezza degli insegnanti di poter adeguare le metodologie didattiche alle esigenze di ciascun alunno. Gli insegnanti devono essere consapevoli dei bisogni individuali di ciascuno e dare opportunità di successo per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, ognuno ha il suo talento, la prospettiva all'interno della quale noi ci muoviamo è una prospettiva inclusiva e questo allora ci permette di attivare le politiche di inclusione, questa è sempre l'agenzia europea per i bisogni educativi speciali nel 2013 lancia 5 messaggi chiave, io sono andata sul sito e ho visto che tutti i paesi hanno attivato delle politiche educative anche per i bambini gifted, l'Italia no. Queste sono le 5 parole chiave che voglio lasciarvi, il primo possibile vale a dire fare una diagnosi precoce, nel nostro caso diciamo valutazione precoce e noi abbiamo gli strumenti per farli e intervento con misure proattive, l'altro educazione inclusiva, un bene per tutti, per cui non classi speciali ma dentro nelle classi, professionisti altamente qualificati, in particolare per gli insegnanti, nessun corso di formazione primaria insegna, introduce l'alto potenziale, la didattica per bambini plus dotati, io lo faccio all'università di Milano perché la collega delle scienze della formazione Bicocca mi chiama perché mi incontra e lo stesso la cattolica, ma la faccio solo in quelle due sedi perché sono persone che mi conoscono, per cui quegli insegnanti almeno diciamo una micro conoscenza ce l'hanno, è giusto un intervento che faccio, sarebbe importante invece fare un corso su questi, anche sulle metodologie, ancora sistemi di sostegno e meccanismi di finanziamento, ancora dati attendibili, la ricerca, noi tutte queste cose che stiamo facendo le stiamo validando, il nostro è un'università per cui noi abbiamo prima di tutto una dimensione che è quella della ricerca, ricerca che però applicata non è una ricerca solo speculativa, questo allora vuol dire attivare tutte queste misure che ci permettono, adesso vi faccio vedere un passaggino, chi è l'alunno potenziale in classe? L'alunno ad alto potenziale in classe è, vado più veloce, è una risorsa per il gruppo classe, è una risorsa per il gruppo classe perché l'insegnante è chiamato a seguire il reale processo di apprendimento e di sviluppo cognitivo dell'alunno e metterlo nella condizione di poter essere anche per tutti al servizio e devo dire queste sono tutte le tipologie di metodologie didattiche, questo è il nostro percorso, questa è una delle attività di estensione, vi faccio vedere un esempio di accelerazione, questo è il caso di, noi stiamo già realizzandoli, per cui nella nostra scuola con l'autonomia scolastica questo si può fare, abbiamo un bambino che è di 5 anni, è il caso che dicevo prima del bambino di 5 anni, con un qui di 143, motivo della consulenza, Luca la capacità logica e cognitive più sviluppate, abbiamo bisogno di consulenza su come affrontare il percorso scolastico, questo è questo, è quello che ci hanno richiesto gli insegnanti dopo che il bambino è stato valutato da noi, viene valutato da noi, c'è una relazione di consegna per la famiglia e una per la scuola perché gli insegnanti entrano dentro nel processo di valutazione, cosa abbiamo fatto con questo bambino in l'ultimo anno a scuola dell'infanzia? Nelle aree dove lui aveva l'area diciamo di talento è stato messo nelle classi più avanzate, per cui in prima, ma con la necessità di arrivare a restituire attività cooperative di restituzione del percorso nella classe. Questo è uno, questo è un altro tipo di accelerazione che abbiamo, che stiamo facendo con alunni che vengono sulle materie spostati perché non su tutte le materie devono essere spostati. Questo non vuol dire che l'accelerazione necessariamente ci fa fare i salti di classe, sia chiaro, è possibile, ma non è nel nostro caso la priorità, per cui passare spesso poi il salto di classe non lo facciamo negli anticipi dei 5 anni, anche perché noi sappiamo che tra i 5 e i 6 anni ci sono delle fasi di sviluppo che necessitano di essere consolidate, per cui non facciamoli, tutto il più si fa un passaggio dalla prima alla terza, dalla terza alla quinta, ma se ci sono i presupposti, soprattutto se è stato accompagnato. Solo chiudo, un caso che stiamo seguendo insieme con Magda è proprio di potenziamento di un'area emotiva emotiva di una bambina che in un contesto scolastico aveva delle fragilità e rischiava... Certo, 145. No, sì certo, 145 di qui. Per cui capite bene che stiamo facendo un percorso di potenziamento per dire la bambina ha fatto una psicoterapia, aveva bisogno, per un periodo di tempo ha fatto questo percorso che è stato integrato con una formazione degli insegnanti e adesso le insegnanti da noi supervisionate stanno portando avanti un'accelerazione in alcune aree, con la possibilità, la bambina si inquarta, di andare forse in prima media. Non è detto, è una sfida che viene data alla bambina anche. La mettiamo nella condizione, ma non è garanzia. Non è garanzia. Basta, mi chiudo perché... Vi lascio questa anteprima. Questa anteprima, l'11 e il 12 dicembre a Pavia noi organizzeremo questo convegno Obiettivo Inclusione, una didattica per alunni ad alto potenziale dove avremo dei colleghi di Cambridge che ci insegneranno come si fa la didattica davvero nelle classi normali.